L'amministrazione comunale di Civitella del Toronto come sempre ha creduto in questo progetto ormai da tanti anni e l'ho fatto anche quest'anno. Sì, siamo alla sesta edizione, quest'anno per il primo anno ho preso tra le altre cose anche gli eventi e visto il buon lavoro fatto in passato su questo evento, visto il successo che ho avuto in passato a questo evento, la volontà mia e ovviamente anche dell'amministrazione è quella di potenziarlo nel tempo. Quindi già da quest'anno vedremo un potenziamento, non nella qualità perché è stata sempre di alta qualità anche già nel passato, ma a livello numerico avremo qualche commento in più e in più ci sono dei bei progetti, sempre per quello che riguarda questo evento, di farlo crescere nel tempo nei prossimi anni. Angelo, tu come sempre presenterai questa edizione, la tua esperienza, la tua simpatia sul palco ancora una volta. Sì, guarda, siamo alla sesta edizione ed è veramente qualcosa di meraviglioso perché i civitellesi ma anche la gente dei paesi in Libitrofi ce lo chiede, infatti sai ti trovi in un negozio, chi fa venire quest'anno? Però diciamo che è una manifestazione che sta prendendo piede davvero tanto, siamo alla sesta edizione, abbiamo sempre riempito completamente piena la piazza, piazza Filippi Pepe, l'evento è gratuito, abbiamo un parterre di tutto rispetto. Io oltre alla conduzione ho la direzione artistica e c'è l'agenzia Lido degli Araggi che cura tutto il management riguardo agli artisti. Sono delle serate meravigliose quelle che noi abbiamo trascorso nella piazza lì Filippi Pepe, ci sono esibiti tantissimi comici importanti già in precedenza ed è talmente bello che quella piazza che tanti comici dicono, ci dicono sempre ma quando è che ci fate tornare a Civitella? È una nostra passione, anche se non è che ci siamo arricchiti perché noi i nostri cascè sono i più bassi d'Italia, però ci piace farlo, siamo amici che ci divertiamo e quando uno ride di sera il giorno dopo va a lavorare più allegro e più sereno.